L'agenza 112, pensate che era una direttiva europea del 1991 e non si sono ancora adeguate le altre regioni, noi lo abbiamo fatto, rendendo più efficiente il servizio, più sicuro e direi anche di un miglioramento vistoso delle risposte che vengono date. Abbiamo fatto vedere il lavoro che stiamo facendo, è un lavoro importante che ha già ottenuto dei risultati significativi.